benvenuto in anaera news questo breve video per comunicarti una piccola novità che si è aggiunta al progetto anaera come sai ci sono già diversi magazine diversi blog che fanno già parte del gruppo anaera ebbene da oggi abbiamo acquisito un altro nuovo e importante magazine all'interno del nostro gruppo un magazine che va completamente al di fuori dei temi fino ad ora trattati quindi non soltanto spiritualità crescita e tutti questi temi che ormai conosciamo ma ci muoviamo sul settore denaro mutui prestiti finanziamenti e assicurazioni un magazine che già ora conta oltre 700 arti al suo attivo un magazine che esiste da diversi anni e che spazia appunto tra questi temi qual è il vantaggio di avere un magazine del genere all'interno del nostro gruppo il vantaggio è quello di poter condividere gli articoli di questo magazine su dei gruppi completamente diversi rispetto a quelli che normalmente utilizziamo quindi il consiglio che ti do è quello di iniziare ovviamente a guardare il sito ma soprattutto di andarti ad aggiungere nei vari gruppi su facebook o su google plus ovunque tu voglia che sono dedicati appunto a questi temi ovvero finanziamenti mutui assicurazioni questo vale anche per le assicurazioni ad esempio per i per i gruppi di auto moto perché potresti pubblicare gli articoli riguardanti le assicurazioni di auto moto potresti pubblicare ad esempio su gruppi per la casa o per l'arredamento o per l'acquisto immobiliare potresti andare a pubblicare articoli riguardanti mutui o riguardante le tasse che ne so di successione piuttosto che altri articoli che possono essere a tema come al solito sul magazine hai l'indice articoli da cui puoi scegliere quale articolo pubblicare e potrai andarlo a pubblicare nel gruppo a tema che ti sarà più comodo ovviamente potrai sempre farlo con il tuo link affiliato noterai che all'interno del magazine sono stati integrati i vari banner e i vari omaggi che ovviamente fanno parte esclusivamente del mondo del denaro quindi il corso sul denaro, sulla mentalità finanziaria e sulle rendite automatiche questo blog, questo magazine ci permetterà di andare a toccare tutta una serie di persone che sono completamente fuori dalla mentalità del risveglio e della crescita e dell'evoluzione e quindi grazie a questo magazine potremo entrare in settori in cui normalmente non saremmo potuti entrare magari con un tema di spiritualità e quindi da questo settore andare a prendere nuove persone nuovi iscritti e soprattutto nuove anime che potremmo iniziare a risvegliare quindi questa era la notizia e l'aggiornamento che volevo darti per Anaira News utilizza Mutui Prestiti Assicurazioni, questo è il link dove puoi andare a vedere il sito e da qui puoi andare già a condividere i vari articoli nei vari gruppi grazie e buona evoluzione con Anaira